Prima di scoprire cosa è successo, ti ricordiamo di mettere un mi piace al video, di iscriverti al canale e di attivare le notifiche. Ora, passiamo alla notizia. Una giovane donna di 23 anni, di nome Paola Cacciatore, è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Alcamo, nella provincia di Trapani. Il corpo di Paola è stato scoperto dal proprietario dell'appartamento che lei aveva affittato. Purtroppo, Paola ha deciso di porre fine alla propria vita. La scomparsa di Paola era stata segnalata dai suoi genitori, i quali avevano informato la polizia che avevano perso le tracce della loro figlia dopo che era uscita per incontrare un'amica a Camporeale. Tuttavia, l'amica ha dichiarato di averla semplicemente salutata al telefono e non ha fornito ulteriori dettagli, come ha confermato il padre di Paola alle televisioni locali. Sembra che ci fossero delle tensioni in famiglia riguardo al futuro accademico di Paola. La giovane aveva completato il liceo classico e lavorava occasionalmente in un panificio, secondo quanto riferito dalla questura. Inoltre, sembra che Paola avesse dei problemi psichici, ma al momento stanno ancora conducendo ulteriori indagini per comprendere meglio i motivi che l'hanno spinta a compiere questo gesto. Le cause della morte di Paola sono ancora da chiarire, ma si sospetta un possibile avvelenamento tramite l'ingestione di sostanze letali. Saranno necessari ulteriori esami per confermare questa ipotesi. Ti ringraziamo per la tua attenzione e ti invitiamo a restare aggiornato sugli sviluppi di questa tragica vicenda. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare le notifiche.